Assessore Veri, oggi è stato illustrato il piano sanitario territoriale per quello che riguarda l'utilizzo dei fondi del PNRR. 213 milioni dislocati in tutta la regione, così come ho già detto, che va a produrre, che porta importanti strutture di prossimità come ospedali di comunità, case della comunità e centri di organizzazione territoriale, i cosiddetti COT. L'ospedale di comunità è una struttura importante, aperta 7 giorni su 7 H24, con posti letto dedicati proprio per la fragilità. Le case della comunità sono case aperte 7 giorni su 7 che prestano dei servizi. Le case della comunità vengono suddivise in AB e SPOC. Le case della comunità SPOC invece sono quelle più a distanza, più a distanza dai centri abitati, ma è importante per dare quell'assistenza di prossimità, che invece saranno aperti 6 giorni su 7 H12. Il centro di coordinamento territoriale è un'unità operativa di gestione di una sinergia di tutte queste realtà e ogni alza ha il numero adeguato in base alla popolazione, ma soprattutto, così come abbiamo suddiviso noi, in base alla conformazione, all'orografia della nostra regione. Grazie.